E' da pochissimo uscito il secondo trailer per il mob vote di quest'anno Il nuovo mob che vedremo oggi si chiama Rascal e abiterà nelle miniere Andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato al mob vote Dopo il video di ieri dedicato allo Sniffer, il primo mob che se non l'avete visto vi consiglio subito di recuperare Perché è stato bellissimo Anche oggi cerco di fare il video il prima possibile per portarvi la news E mi raccomando voi supportate con un grandissimo mi piace Creiamo questo hype per il Minecon Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Per non perdervi nessuna notizia sulla nuova versione di Minecraft Ci aspettavamo anche il mob chiamato Rascal perché il leak era autentico E quindi Sniffer, Rascal e il terzo turno domani toccherà al Tuff Golem Ma andiamo subito a vedere il trailer che poi commenteremo insieme Il nuovo mob? There it is Oh, that's a rascal Hmm, is it hostile? Just a little mischievous It lives underground and loves playing hide and seek So do I, especially after lunch An enchanted pickaxe for us Oh, what a lovely gift This must be a prize for finding it three times If the community vote for the Rascal We can keep this game of hide and seek going forever Well, the Rascal find its way into Minecraft's mines You have 24 hours to cast your vote Starting on October the 14th Noon, Eastern Daylight Time Devo dire che questo Rascal mi ha comunque un po' sorpreso Perché mi aspettavo che nelle miniere ci fosse il Tuff Golem Il Rascal, che è una parola inglese tradotta come mascalzone Dalla descrizione si poteva adattare un po' a tutte le situazioni Ma il Tuff Golem l'avrei messo nelle miniere Invece il Tuff Golem sarà quindi il mob che fa volare i cappelli Cosa abbastanza inaspettata Ma d'altronde, piccolo dettaglio sul Tuff Golem che vedremo domani Il Leaker sostiene che già lo abbiamo visto nel trailer iniziale Quindi nella Magione, quella statuetta di Golem era il Tuff Golem Il Rascal sarà un mob molto particolare Unico nel suo genere se verrà aggiunto al gioco Perché si tratta di un mob che non è ostile Ma che troveremo in un ambiente di solito ostile Come le Mineshaft Dove ci sono ranni velenosi E qualsiasi genere di mob un po' difficoltoso da affrontare Diciamo così Il Rascal non sarà ostile Ma sarà molto guardingo Nei nostri confronti Infatti ci osserverà da lontano Sarà molto inquietante Senza attaccarci E quando noi lo vedremo E in qualche modo lo troveremo Quindi non è detto che basti lo sguardo Ma eri ci dobbiamo avvicinare a lui Lui giocherà una sorta di nascondino Insieme a noi Dopo che lo avremo trovato tre volte Finalmente si arrenderà Avremo vinto questa sorta di mini game All'interno delle miniere E ci porterà un tesoro Che estrae dal suo zainetto Nel caso del trailer Si vede che esce con un piccone incantato Che sembra di ferro Quindi niente di troppo utile Ma magari è in grado anche di portare Dei picconi più importanti Con dei belli enchant Che possono far comodo Se sei nelle prime fasi di una miniera Sono davvero stupito Perché non me lo aspettavo Per nulla così questo rascal Il design è particolare È una sorta di umanoide Che si diverte a fare nascondino È vestito con una sorta di mantella verde Che ricorda anche i colori Già visti con lo sniffer Quindi in un certo senso C'è una riproposizione di questo colore Mi sarei aspettato dei mob Completamente diversi Anche cromaticamente Sarebbe il primo mob Che funziona tramite un minigioco Non è né neutro Né ostile Né pacifico È praticamente un mob E ti propone un minigame All'interno di Minecraft Vanilla Nascondino È una meccanica inedita Vista su un mob Ed è davvero molto interessante Che abbiano pensato un'idea del genere Per quanto poi Nel termini pratici Sembra essere meno utile Dello sniffer Ma la palla passa a voi Voi che cosa ne pensate? Per ora preferite lo sniffer Il rascal O riponete le vostre speranze Nel Tuff Golem Che vedremo domani Io ragazzi Al momento Tendo più verso lo sniffer Ma aspetto ancora Ad esprimermi Vediamo domani E detto questo Vi ricordo Che il 15 ottobre Sabato 15 ottobre Alle 17.30 Siamo in live Sul mio canale Nel sito viola Live.remblaze.it Seguiremo insieme L'evento del Minecraft Live Scopriremo come Anzi Avremo scoperto già prima Come votare il mob Vi farò sapere in un video Ovviamente appena sarà il momento E scopriremo Chi vincerà Durante la diretta Oltre a scoprire La nuova versione La 1.20 Che sembra essere Sempre più vicina A un'archeologia Forse mista Dungeon Comunque qualcosa di questo tipo Perché in tutto ciò Io ho già azzeccato Delle predizioni Vorrei dire Ovvero Che questi mob Sembrano essere localizzati Volutamente In tre strutture Quindi Sembra Che l'intenzione Sia comunque Di upgradeare Almeno una struttura Dandogli qualcosa di nuovo E sono per ora Due strutture molto vecchie La mineshaft E anche a suo modo Il Le rovine oceaniche Vedremo domani ragazzi Perché forse Torneremo nelle magioni O forse Vedremo qualcosa Di totalmente inaspettato Di nuovo Se ci saranno Archeologi Misto dungeon update O Qualsiasi nome Potrebbe mai avere Io personalmente Sarò contento Anche se non è L'end update Che secondo me Servirebbe tanto al gioco Ma quello Lo scopriremo Il 15 Quindi detto ciò ragazzi Noi ci salutiamo E ci vediamo stasera In level 20 e 30 Più tardi anche Con uno short Qui su youtube Per spiegare Il rascal In poche parole Un saluto da Eren Ciao a tutti